Mettetevi comodi, c'è cinema, 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 su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato, dalle 12, con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive, ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema, come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comedie. Cinema, 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 se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Tonino Pinto da Cannes, il regista premio Oscar Spike Lee vestito di rosa fucsia, compresi gli occhiali, immortalati anche sul Manifesto Ufficiale, primo regista di colore a presiedere la giuria dei Palmares, che sul tappeto rosso ha accennato anche un passo di danza fra il pop e il rock, assomigliando molto a John Travolta. L'elegantissima attrice americana Joy D. Foster, in lungo la me perla con la sua compagna di vita, premiata con una palma d'oro alla carriera dal regista spagnolo e premio Oscar Pedro Almodovar. L'attrice britannica premio Oscar anche lei, Ellen Mirren, in rosa tenue, arrivata direttamente dalla sua masseria pugliese. Il cast al completo di Annette, primo film di inaugurazione con la bellissima Marion Cotillard di bianco vestita, protagonista di una commedia dark musicale diretta dal visionario francese Leo Carax, film peraltro accolto tiepidamente dalla critica, perduto in un giallo pop rap, così in sintesi l'inaugurazione a Cannes del 74esimo Festival Internazionale del Cinema, obbligato fra virgolette dal Covid in strette misure di sicurezza, soprattutto per cronisti e anche per il pubblico, costretti, malgrado l'accredito ufficiale, a prenotare con un biglietto elettronico la visione dei film, dove poi in sala tutti sono seduti senza distanze di sicurezza. Caos ed emozioni all'ombra del virus che ha costretto Cannes a spostare in luglio, a soli 40 giorni, dalla mostra del Cinema di Venezia, una kermesse ricca tuttavia di autori e di star. Oggi il concorso infatti presenta con Sophie Marceau, ricordate il film Il Tempo delle Mele? Ecco, proprio lei, Tout c'est bien passé, tutto è andato a finire bene, di François Ozon, un'intensa e appassionante storia di affetti, di voglia di vivere e anche di eutanasia, quella di un anziano genitore colpito da ictus cerebrale che decide di chiudere la sua esistenza con l'aiuto della figlia. Insomma, un festival che passa dal colossal ai film di nicchia, che vuole tornare comunque all'antica grandeur con un occhio attento al mondo virtuale. Infatti stasera, con tutto il cast del film di Ozone, Sophie Marceau in testa, stasera sul red carpet la regina sarà Chiara Ferragni. Grazie. Grazie.